Buongiorno e benvenuti, ben svegliati da 7 in punto. Il tema che trattiamo questa mattina riguarda un po' il risveglio culturale, se così lo possiamo definire, che nel corso degli anni non è una cosa di qualche ora fa, ma è un percorso che a Treviso è stato avviato proprio nel corso degli anni. Treviso che sta sempre più assurgendo a capitale della cultura, una cultura attenta alla letteratura, attenta all'arte e tra le tante manifestazioni che si sono concluse, che si stanno per invece organizzare, c'è il TEDx Treviso, un nome che già di per sé può sembrare misterioso e per capire di che cosa si tratta, qui con me ho le anime di questa iniziativa. Doyle, buongiorno e benvenuto a Sara Salin per Cavalleria, giornalista e anima potremmo dire di questa manifestazione. E poi Nicolò Rocco, presidente di TEDx Treviso. Buongiorno. Che cos'è già questo nome TEDx Treviso? Allora partiamo dall'acronimo che forse è la cosa più semplice. TED sta per Technology, Entertainment and Design. È una conferenza, quindi parliamo di una conferenza, nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, più precisamente nel 1984, con l'intento di portare sul palco di questa manifestazione denominata TED, chiamiamole così, le menti più brillanti del mondo, cioè persone da campi molto diversi che avessero qualcosa di interessante da dire. Il motto infatti è Ideas World Spreading, idee che valga la pena diffondere. Qual è la caratteristica più significativa di questa conferenza? Appunto il fatto di mettere persone che vengono da esperienze molto diverse e che hanno delle idee interessanti sul futuro, sul modo anche di vivere che possiamo avere dai nostri stili di vita alle innovazioni che potranno cambiare, avere un impatto sulle vite di ciascuno di noi, da una parte e dall'altra a livello, diciamo proprio di esposizione, il fatto che questi speaker parlino con degli speech, cioè con dei discorsi molto brevi. Oggi siamo nella comunicazione ormai del 4.0, chiamiamolo così, di Twitter, dei caratteri, di Facebook, addirittura di Instagram, quindi una comunicazione sempre più veloce. Però negli anni Ottanta, quando questi mezzi di comunicazione non erano così diffusi, il fatto che un premio Nobel avesse dai 10 ai 18 minuti per esprimere la propria teoria o raccontare quello che l'aveva portato a lavorare per questa teoria, sicuramente poteva rappresentare qualcosa di innovativo. Il format è rimasto lo stesso, quindi tanti speech da campi diversi che parlano tra i 10 ai 18 minuti, in speech che vengono ripresi... Che oggi 10 ai 18 minuti possono sembrare anche tantissimi. Possono sembrare tantissimi, però devo dire che TED è diventato un po' nell'immaginario un format che aiuta da una parte a capire l'importanza di comunicare in maniera divulgativa cose sicuramente interessanti, dal DNA a ciò che ci muove nel ricercare una nuova proteina, piuttosto che come ci muoveremo in futuro proprio a livello di spostamenti. Il primo speech, il più importante forse, quello che si ricordano tutti, è stato quello di Algor sui cambiamenti climatici. E oggi, insomma, sappiamo quanto questo tema impatti sia all'ordine, forse non abbastanza, però sia comunque importante nell'agenda quotidiana di ciascuno di noi, però negli anni 80 era qualcosa di sicuramente innovativo. Per arrivare al perché si faccia Treviso, da una decina d'anni più o meno questa fondazione che ha sede negli Stati Uniti, che è la fondazione che organizza il TED cosiddetto Global, che è un evento per cui per partecipare le persone pagano dai 6 ai 12 mila dollari, per cui insomma è sicuramente un evento che abbina da una parte l'ascoltare delle esperienze interessanti, dall'altra però anche la possibilità di avvicinare, quindi di fare networking, networking, un tema che insomma magari a noi non dice molto, però per gli statunitensi è molto importante l'idea quindi di confrontarsi, la fondazione americana ha dato la possibilità a persone indipendenti in tutto il mondo di organizzare un evento simile, cioè che abbia le stesse caratteristiche. Per farlo queste singole persone, nel mio caso io l'ho fatto per la mia città, per Treviso, fanno un application, cioè compilano un form, spiegano per quali motivi, ritengano che questo tipo di formato possa essere impattante in senso positivo nella propria comunità, noi l'abbiamo fatto e quindi siamo orgogliosi. Senza pagare 6 mila euro, giusto? No, noi chiaramente... Ecco, no, perché è qui forse, scusa se si interrompo e volevo confrontarmi con Sara, è questa la forza se vogliamo di questo format portato a Treviso, con un prezzo comunque si paga, ma è un prezzo simbolico, è una comunicazione approfondita, ma veloce, su temi che possono interessare moltissimi. Non è una manifestazione esclusiva per un gruppo di persone? No, allora, intanto ricordo che lo scorso anno, che era il lancio, la prima edizione, l'abbiamo fatta a Palazzo dei 300 e avevamo soltanto una licenza per 100 posti, è stato anche gratuito e quindi era, diciamo, un primo step che voleva essere proprio per tutti. Quest'anno Nicolò è stato in aprile negli Stati Uniti a New York, è riuscito ad ottenere l'ampliamento della licenza, quindi teoricamente potremmo organizzare un TED per mille persone con l'unico problemino che a Treviso in città non abbiamo uno spazio così grande, a meno che non dovessimo cambiare stagione dell'anno e quindi organizzarlo tipo in uno stadio, allora probabilmente ce la faremmo. Quindi abbiamo un TED quest'anno che vedrà un numero maggiore di persone, perché mi sembra che siano 580 i posti in sala, saremo all'auditorium di Fondazione Cassamarca all'area Piani. Il 10 novembre? Perché è un sabato tutto il giorno dalle 10 della mattina fino a tre quarti pomeriggio, perché avremo un numero molto alto di speaker invitati. Il prezzo è, diciamo, simbolico, comunque in tutti i TED, anche i TEDx, si paga, perché comunque hai anche dei servizi e anche perché, ricordiamolo, penso che sia anche una cosa bella questa, chi organizza il TED è volontario, noi siamo tutti volontari, quindi viviamo soltanto grazie a delle sponsorizzazioni, alle aziende che ci sostengono, nessuno di noi viene pagato, anche quelli che sono professionisti, sono adulti, sono imprenditori, perché abbiamo un mix incredibile di giovani e di vecchi, di esperienze e di novità, e di conseguenza abbiamo bisogno anche di far fronte a delle spese, perché mettere in piedi uno spettacolo simile è anche molto costoso. Però il prezzo, insomma, è simbolico. Abbiamo un biglietto standard, che costa, mi sembra, 40 euro circa, e poi un biglietto golden, ma è un numero molto limitato, perché prevede anche la partecipazione la sera precedente alla cena di gala, con la presenza degli speaker, degli sponsor, delle istituzioni. Quali sono, adesso facciamo un po' un escursus nel programma di quest'anno, quali sono gli speaker e come sono stati selezionati, se vengono selezionati, ovviamente credo il rapporto ai temi che possono essere di maggior interesse, anche per la città di Treviso, ma anche per il Venedo, perché credo che non siano soltanto partecipanti della città, ci sia uno stimolo che arriva, è un agora alla fine, se ho capito bene. Certo, nel senso che una volta che la fondazione concede la licenza, sta ai proponenti, a chi vuole organizzare l'evento nella propria città, scegliere questi speaker, chiaramente con l'idea che siano persone che abbiano qualcosa di interessante da dire. Gli speaker non vengono pagati, anche questa è una cosa che vogliamo sottolineare, perché dimostrano di aderire allo spirito del TED e non devono autopromuoversi, insomma, nel momento in cui salgono sul palco, vengono per raccontare qualcosa che sia di ispirazione per qualunque persona. Confronto di idee. E una cosa anche importante è che sia di ispirazione in tutto il mondo, perché poi questi speech vengono ripresi, vengono tradotti nelle altre lingue, quindi ciò che viene detto a Treviso deve valere, deve piacere, deve emozionare una persona che si trovi negli Stati Uniti o che si trovi dall'altra parte del mondo. Gli speaker che abbiamo scelto sono stati abbastanza in linea con il tema, faccio una piccola precisazione, i TEDx non sono monotematici, quindi non sono delle conferenze sul turismo, sull'economia, possono avere un filo conduttore, quello che noi abbiamo scelto quest'anno, con un gruppo di persone che si è trovata in maniera, che sono trovata in maniera anche cadenzata, quindi periodica, a lavorare sul tema e sugli speaker di conseguenza, il tema che abbiamo scelto quest'anno è Psiche e Tecne, un tema molto ampio che è il rapporto tra, diciamo, la persona e la tecnologia, anzi, meglio sarebbe la tecnica, però qui entriamo in una sfumatura un pochino complessa. Per tecnologia intendete la tecnologia digitale, prima si parlavano del TED nato negli anni Ottanta, quando la comunicazione viaggiava su altri supporti, oggi ci sono, vi hai citati tu prima, i social piuttosto che tutte le piattaforme digitali, quindi anche un confronto su questo aspetto, perché da una parte il TED nasce come comunicazione veloce, però oggi magari la comunicazione è fin troppo veloce, e rischia di non essere più comunicazione, di non essere più approfondimento. Cioè anche, ci sarà anche il tema della tecnologia digitale, però tecnologia inteso a 360 gradi, quindi tecnologia è anche tutta la scoperta che l'uomo ha fatto in questi anni o in cui siamo arrivati ora, che può essere anche in campo medico, può essere in campo biomedico, di fatti le persone, gli speaker che avremo, andranno a ricoprire tutto un arco, abbiamo cercato di riempire un po' tutti i settori, dal cibo, perché adesso magari Nicolò, i nomi ve li dirà, dal cibo al giornalismo, allo spettacolo, a qualsiasi cosa, quindi avremo esponenti di ogni settore, perché psichetecne, e quindi perché la tecnologia ormai è presente in ogni settore, e perché l'esigenza di ritornare a ritrovare l'essenza dell'uomo, il valore dell'uomo, riguarda tutti noi. Quella humanitas, a cui molti di noi si sono formati e che appunto forse in questi anni si è un po' persa, ma forse non si è persa, magari aveva meno visibilità, era un po' nascosta. Si è nascosta, e difatti nella nostra grafica è molto significativa, quella che abbiamo scelto quest'anno. Perché? Perché noi abbiamo una lente di ingrandimento che va a scoprire in mezzo ad un tappeto, chiamiamolo così, di piccoli oggetti che fanno parte del nostro quotidiano e che sono pura tecnologia, vanno a scoprire che all'interno di tutto questo c'è un uomo disegnato, c'è un uomo che ha un cervello, ha delle mani per agire e ha un cuore per provare sentimenti e per provare emozioni. Quindi c'è questa lente che ricerca e trova e vede, ma soltanto con la lente di ingrandimento, quindi soltanto con la passione, ma anche l'impegno, puoi trovare l'uomo. Sara, visto che tu sei anche reduce da Carta Carbone, quindi eventi letterari, che poi alla fine Carta Carbone è un po' questo evento che parla dello scritto come autobiografia, quindi la ricerca di se stessi, l'anima, il pensiero, eccetera. Quanto c'è necessità? E forse anche il successo di TEDx l'anno scorso e la riproposizione di quest'anno e anche tutte quelle manifestazioni che in qualche modo di voglia di riflessione, di analisi, che si propongono a Treviso, ma non solo a Treviso, quanto appunto c'è una riscoperta dell'uomo in quanto pensiero, in quanto riflessione e anche della sua anima? Quanto c'è richiesta appunto di cultura in senso lato, che non è nozionismo, ma è forza proprio di riflessione, di chiederci che cosa c'è intorno, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo? Ma allora, è una piacevole scoperta aver capito che c'è tanta esigenza di questo tipo di cultura, c'è tanta attenzione e tanta partecipazione, tanto coinvolgimento di un pubblico che per quello che riguarda la nostra città, Treviso, non è soltanto un pubblico locale, ma è un pubblico, come dicevi prima, che viene anche da fuori. Sì, Carta Carbone è festival dell'autobiografia e siamo anche convinti che debba rimanere festival dell'autobiografia, perché è questo tipo di riflessione che ci aiuta, che viene chiesto, cioè c'è fame di questo, un pochino, però c'è fame di tutto quello che è cultura, mi sembra, ormai da qualche anno, in una città come Treviso, che è sempre più vivace in questo senso. Ma ho riflettuto tempo fa sul perché e su come è nato in una città che è stata il simbolo anche di una vita, se vogliamo, per chi la guardava da fuori, di una vita un po' leggera, un po' spensierata, un po' fatta anche di stereotipi, perché poi alla fine non era proprio così, andandoci a vivere, vivendoci. Però negli anni della locomotiva del nord-est forse venivamo additati come una città che non aveva proprio quell'attenzione e quei valori. E poi si è passati anche ad una città oscurantista per certi versi, dove la cultura in qualche modo sembrava fosse negata e anche lì... O che non fosse necessaria, però evidentemente c'era un sottobosco che continuava a lavorare. Secondo me, nel momento in cui c'è stata la forte crisi economica, una crisi che non è che sia finita, però insomma qualche cosa è migliorato, nel momento di grande difficoltà sono emersi gli altri valori. Sono emersi questi valori e si è riscoperto un gruppo enorme di persone che stava lavorando culturalmente in questo senso. Diciamo che in un momento in poi tutto è venuto alla luce, si è concretizzato e alla fine ci ritroviamo in una città con 14 festival culturali che non sono poco, che forse sono anche troppi in alcuni momenti. Però insomma, la scrematura si fa progressivamente. Cerchiamo di non pestarci i piedi e anzi di collaborare tantissimo, perché abbiamo una rete di festival e c'è di tutto di più. Diciamo che sono orgogliosa di far parte di questo unico festival dell'autobiografia in Italia che si è chiuso sabato ed ha fatto veramente il pienone. Psiche e tecniche. Diceva Sara, la riscoperta ha un po' dei valori, dell'etica dell'uomo in senso lato e del suo opporsi in rapporto con il mondo, dall'ambiente, alla cucina, al giornalismo. Come sono state selezionate gli speaker proprio in questa dinamica che è tipica del TEDx? Perché magari ci sono personaggi più o meno adatti e altri no. Ci sono anche, avete ricercato delle anime, credo. Assolutamente. Partendo dal presupposto che il rapporto tra uomo e tecnologia o meglio, l'indagine sul rapporto tra uomo e tecnologia non sia una cosa recente. in Antigone nel 2400 parlava di questo tema, cioè il rapporto tra l'uomo e l'innovazione. Sicuramente abbiamo scelto persone che rendessero umano il rapporto con la tecnologia sotto due aspetti che sono quelle che ci rendono veramente persone, ovvero la capacità di farci domande e quindi quello che quando si parla di etica è la capacità di farsi domande rispetto ad una situazione che va ad evolversi da una parte. Anche la voglia di farsi domande. La necessità. Ecco, perché capacità e dall'altra la capacità di emozionarsi. Cioè quello che sicuramente ci differenzia rispetto a questo momento rispetto alle macchine è la capacità di emozionarsi e provare empatia. La scelta degli speaker quindi è stata in questo senso la capacità di andare a ricercare queste caratteristiche in persone che vivano l'evoluzione e l'innovazione sotto aspetti molto diversi. Andiamo per esempio si è parlato di digitale abbiamo voluto Massimo Russo che è il direttore della divisione digitale del gruppo Gedi quindi forse il più grande gruppo editoriale e di informazione italiano Massimo Russo è stato direttore con direttore della stampa direttore di Wired e oggi si occupa appunto del digitale per un gruppo molto importante. La scelta di un giornalista per esempio è stata la scelta di un attore utile nella capacità di leggere la società e leggere anche dei fenomeni che possono essere quello del rapporto tra informazione e democrazia per esempio. Quindi è anche un antropologo. In qualche modo un antropologo. Avremo un antropologo che è Claudio Tunitz che si occupa del rapporto tra evoluzione e tecnologia nella storia dell'uomo partendo da 150.000 anni fa non da ieri e come è cambiato anche il nostro cervello in base alla capacità che noi abbiamo avuto di condividere le informazioni con gli altri nostri simili. Lui è responsabile del progetto Sapiens è direttore del centro di fisica teorica dell'UNESCO quindi un nome molto interessante. Avremo Oscar Farinetti cioè avremo un imprenditore che oltre ad essere un grandissimo imprenditore è stata una persona che ha sempre cercato di abbinare alla propria capacità imprenditoriale la capacità di farsi domande sull'attualità e la scelta della ricerca del valore l'ha fatto nelle sue esperienze imprenditoriali e lo sta facendo adesso con il cibo quindi il Made in Italy è sicuramente uno sguardo interessante sul mondo. Avremo Elia Stupka parlavamo prima di intelligenza artificiale di scoperte anche in campo medico è un nome che può magari non dire niente ma Elia Stupka è stato fino a ieri il direttore del Dana Farber che è l'istituto oncologico di riferimento per Harvard è uno scienziato un biotecnologo una persona che ha fatto ricerca biomolecolare quindi insomma stiamo parlando di cose molto specifiche oggi Elia Stupka si occupa di gestire insomma i dati per una società che gestisce i dati sanitari quindi Genoma per 100 milioni di pazienti negli Stati Uniti cioè come oggi l'evoluzione ci abbia portato attraverso tante informazioni a poter pensare di lavorare sulle malattie oncologiche che sono insomma delle malattie molto importanti e attraverso l'utilizzo di questi dati quindi come l'intelligenza artificiale impatti sulla medicina avremo un nome molto particolare che sarà Daniele Paolucci che è un giocatore un e-gamer il campione europeo di FIFA 2018 un nome un po' particolare ma perché dietro a questo mondo c'è sicuramente qualcosa di interessante cioè parleremo anche di realtà virtuale avremo un ragazzo di Padova che ha costruito un'impresa da una start-up un'impresa che oggi fattura quasi 2 milioni di euro nel campo della virtual reality abbiamo pensato che unire una persona che fornisca la tecnologia per la virtual reality che andrà a impattare sempre di più nel mondo dell'impresa ma anche nel mondo nel nostro mondo quotidiano e che bisognerà anche iniziare un po' a fare i conti con questo mondo per non esserne fagocitati perché è sempre così quando c'è una rivoluzione di un certo tipo bisogna anche avere gli strumenti per usare la tecnologia perché la tecnologia non è un cervello umano e quindi bisogna anche credo imparare un'educazione da una parte la tecnologia è una tecnologia che venga educata per esempio avremo Laura Dal Corso che è una professoressa di psicologia del lavoro e dell'organizzazione dell'Università di Padova che andrà ad aiutarci a capire come la tecnologia stia oggi cambiando il mondo del lavoro cioè come da una parte il mondo del lavoro si serva della tecnologia e come arrivare a produrre questa tecnologia sia un processo in cui per esempio gli psicologi quindi le persone che studiano la mente umana le risorse umane da una parte sfruttino le proprie conoscenze per rendere più umana la tecnologia ma dall'altra parte quindi una tecnologia come prodotto ti rende la vita più umana perché hai degli spazi ti semplifica la vita e riacquisti anche un po' di umanità esatto però allo stesso tempo una tecnologia può impattare anche negativamente nel mondo del lavoro assolutamente quindi capire dove stia il punto di equilibrio tra una tecnologia che sia al servizio e non qualcosa con cui l'uomo si scontra quindi avremo insomma nomi molto diversi Federica Rosellini poi anche avremo un'attrice esatto dello spettacolo l'attrice l'anima l'emozione esatto poi ci sono anche altri nomi che non abbiamo ancora svelato perché non abbiamo svelato ancora tutti gli speaker ci saranno alcune sorprese che ci teniamo per l'ultima settimana anche se volevo dire che ormai siamo quasi sold out quindi sì questo sì saranno anche dei nomi abbastanza abbastanza importanti vabbè allora ci ripromettiamo di comunicarli ai telespettatori magari il 9 novembre nell'edizione dell'emico 8 possiamo svelare Sara volevo chiederti quali sono le domande principali che arrivano dal pubblico che partecipa a questi incontri perché ascoltano hai detto che c'è sold out per cui evidentemente questa conferenza che affronta tutti i temi che dà delle risposte probabilmente a domande che tutti ci facciamo e che magari non abbiamo il coraggio di fare secondo te quali sono le impellenze? beh allora diciamo intanto che i frequentatori perché io mi chiamerei ormai frequentatori di TED sono quasi dei frequentatori seriali cioè comunque si frequentano molti TED non partecipano solo a quello di Treviso però alcuni vengono anche da fuori perché sono affezionati seguono l'evoluzione dei TED per quello che riguarda la città diciamo che l'anno scorso è stata una bella scoperta una piacevole scoperta per il pubblico della città capire di che cosa si trattava e che cosa stavamo facendo devo dire che il giorno in cui abbiamo presentato il tema di quest'anno i nomi di quest'anno c'è stata molta attenzione e una risposta molto positiva perché appunto stiamo parlando di andare a capire a ricercare anche in se stessi e questa riscoperta di valori e di etica di cui c'è necessità durante la conferenza il pubblico non ha la possibilità di interagire però ci sono dei momenti sia appunto nella sera precedente in cui facciamo la cena di gala per alcuni pochi eletti sia durante i coffee break o il pranzo per incontrare e scambiare anche esperienze e opinioni con i protagonisti con gli ospiti le domande non lo so se quest'anno non mi sembra ancora che siano arrivate grosse domande da parte del pubblico c'è curiosità c'è tanta curiosità perché ci sono anche tanti personaggi che creano curiosità e si ha voglia di capire che cosa al di là di quello che loro fanno nella vita queste persone ci racconteranno perché poi alla fine uno torna a casa e deve tornare a casa dicendo ah vedi forse era meglio o forse potrei o forse penserò o forse mi muoverò o forse farò nella mia vita qualche cosa di diverso perché ho l'occasione di riflettere ho l'occasione di ascoltare il pensiero degli altri le esperienze degli altri anche nelle difficoltà e di uscire con qualche cosa di positivo e sinceramente per me ma come per tante persone anche adulte lo scorso anno alla prima esperienza c'era la voglia di dire vado a casa e da domani cambio il mondo o perlomeno cambio la mia vita e faccio qualche cosa di buono è questo già un passo sì sì lascia qualche cosa di positivo quindi più che le domande che uno fa preventivamente forse sarebbe da ascoltare il pubblico alla fine per dire che cosa ti ha lasciato questa esperienza che cosa farai domani che cosa vorresti fare di nuovo nella tua vita perché ognuno di noi può essere protagonista di un TED quanto la formula dei 10-18 minuti quindi una comunicazione rapida ma approfondita perché insomma sappiamo che la concentrazione umana non supera i 20 minuti quindi certe sbrodolature alla fine minano la comunicazione quanto questa è una formula vincente perché magari uno dice beh è una conferenza di un giorno dove si parla dello scibile umano uno alla fine non acquisisce le adeguate informazioni invece è importante perché ognuno si prepara i 18 minuti poi sono frutto di un lavoro che non è un lavoro di 18 minuti no infatti noi con gli speaker facciamo quasi un contratto di ingaggio per cui loro sono anche molto interessati di capire come impostare il loro speech noi abbiamo uno speaker abbiamo un team che lavora sui contenuti abbiamo uno speaker trainer che lavora affinché siano il più efficaci possibili quei 13 minuti è anche interessante vedere come magari persone che hanno moltissimi riconoscimenti che sono in televisione tutti i giorni che fanno conferenze in tutto il mondo poi siano anche umili nell'andare a confrontarsi per fare in modo che il loro speech sia il più interessante il più bello possibile cioè anche la scelta di speaker è la scelta di persone che siano interessate a confrontarsi con noi e quando prima si è parlato delle domande che fanno le persone che arrivano ad un TED è molto interessante molto bello vedere come ancora prima che vengano fuori gli speaker ci sono persone che chiedono i biglietti perché sanno che vanno incontro ad un formato che si presta ad essere emozionante le due caratteristiche sono da una parte in qualche modo divulgare delle informazioni interessanti quindi sicuramente le persone sono interessate a capire se in un format molto proiettato verso il futuro a capire magari cosa ci aspetta nel futuro cosa significa intelligenza artificiale come ci muoveremo fra cinque anni quali sono gli obiettivi che ci poniamo per rendere la vita migliore fra cinque anni però l'altra parte interessante è sicuramente capire quali sono le motivazioni che spingono le persone ad innovare quali sono le motivazioni che spingono anche persone interessanti a mettersi in gioco tutti i giorni l'anno scorso faccio due esempi abbiamo avuto Michele Foschini che è un fumettista è sicuramente interessante capire come si sta evolvendo il mondo del fumetto ma più interessante capire cosa ha spinto un ragazzo di 14 anni che stava in ultimo banco a dire io quella cosa la voglio fare perché voglio raccontare delle storie perché sono le storie quelle che aiutano le persone a connettersi quindi che lui parlasse di fumetto che parlasse di cinema che parlasse di letteratura quello che era interessante era capire il ruolo che hanno le storie nelle nostre vite e come le storie ci aiutino a metterci in contatto con gli altri quali valori ci sono dietro il fatto che una persona faccia l'editore che quindi voglia divulgare delle storie e ci ha parlato di Zero Calcare che è andato con i kurdi a cercare di capire la storia di questo popolo dall'altra parte Valeria Zanella che era una violinista bravissima che ha fatto un pezzo soltanto per il TED sicuramente quel palco era l'occasione per ascoltare una violinista tecnicamente bravissima ma l'emozione è nata dal fatto che quel violino fosse andato a suonare per la prima volta in Iran assieme a un'orchestra occidentale che per la prima volta un'orchestra occidentale suonasse in Iran Oriente e Occidente fossero uniti dalla musica quella era l'emozione non soltanto la bravura tecnica e comunque è difficilissimo l'hai definito spettacolo perché non è facile non è facile mettersi in gioco io delle volte penso ai nostri speaker penso ai loro 15-18 minuti devono salire su un palco di fronte hanno una platea e quindi sì penso che anche Federica Rosellini avrà problemi perché avrà problemi avrà proverà emozione perché in quei 18 minuti deve mettersi in gioco e quindi c'è molto da provare c'è molto c'è un'emozione molto grande per tanti è una grandissima emozione anche perché per alcuni è la prima volta di fronte ad un pubblico a proposito di tempo cronometrato sono scaduti i nostri 30 minuti io ringrazio Sara Salina e Nicolo Rocco per averci portato un anticipo di TEDx Treviso il 10 novembre all'auditorium della Piani sì grazie a voi per averci seguito torniamo domani mattina con Satinpunto a riederti a riederti a riederti